Grazie per il loro prezioso e sempre anche un esercizio alla nostra città. Del Vigio del Fuoco esperto Torreggiani, vittima del progresso. E quindi tutto è diventato più difficile poi col sisma. Ma nonostante questo ci siamo tutti. Il nostro direttore regionale, tutti gli ex direttori regionali, questo sta significando il fatto che siano presenti i nostri dirigenti sindacali. Di inaugurare uno dei milioni di staccamenti sicuramente dal nostro paese. Oggi è il suo compleanno, oi? Oggi è il suo compleanno di domenare. Grazie. 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 Grazie.